Musica Balla da ricca raga, benvenuti su Daylight Light, ecco, è un nuovo gioco horror che ho comprato ieri ma che non ho potuto giocare ieri perché non ho avuto tempo Quindi abbiamo il tempo oggi, cominciamo quindi con nuova storia Quindi a quanto ne so dovrebbe essere diciamo un gioco horror Dovrebbe farmi fare... Dovrebbe mettermi insomma paura Si spera, tutto sommato, altrimenti sarebbe un po' come dire noioso altrimenti no? Lasciamo che carica, vediamo che cosa ci dice la storia Intanto vi faccio una bevuta, scusate C'ho sete Allora Bara luminosa, bengala, getta, scatto, arrampicati Usa, lascia, ingrandisci, vedi mappa Ok Barretta luminosa e bengala penso che siano le cose più... Più diciamo che mi devo ricordare Ehi Rihanna Ah, bravo, hai arrivato Sara, focus, non abbiamo molto tempo Ci sono stati buscati, certamente hanno Usa questa macchina nella tua mano per trovare il tuo modo C'è molto a vedere, molto a sapere Ok Oc 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 E' detenuto 52 sempre avere visioni di gente ombra Crescente Insomma, ho capito, va, sembra una specie di ospedale psicopatico, va Pieno di gente psicopatica Ho fatto appena due metri E' normale che sto sempre là Allora Hai trovato Barra luminosa Ok Ah inventario pieno E' troppe barre luminose Nessuno in casa No Cos'è sta roba Il penitenziario di me è un nuovo primario Lui è un nuovo primario E' entusiasmo per L'assunzione di un penitenziario E' un talento Certo il suo contributo La salute dei suoi residenti Io immagino Telefono No Telefono Casa E ti No Ciuppi 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 Guarda come corre Sembra quasi che vada Sembra tipo cenerentola che va a ballare Ci mancava pure quasi quasi la Mona Lisa Ok Non mette paura sto gioco vero Altra lettera è che Ah Oh Strenus Perché l'hai ucciso Corri Come corre Così mi mette paura Mi mette paura Dice corri Io già mi sto cagando sotto Così Se uno mi viene a dire Corri What the fuck è quella cosa Minaccia reminescente Ah forse le devo andate qua Usa barretta luminosa Per forza Eh What the fuck Oh Proprio tatuaggio rapido Mi sono fatto Mi sono fatto un tatuaggio all'istante proprio Buongiorno C'è nessuno Cerco oggetti Ui bambino Un po' di olio Ce lo mettiamo Ui Ok Storia di nucleo di planeato Con il pescatore Ok E che Ogni armadio c'è una lettera Vabbè No No Please No Mi mette paura Please No Paura No Paura Wtf Que 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 La Lucia Rosa Qua è chiuso Qua è chiuso Oh 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 per questo è storia WTF?! E' SIGILLO!! Non è sacchiotto come? come se è fuoco in questo po' oh what the fu- what the hell what the hell po' tipo, che carino can it be? i see you Porca miseria mi sta... C'è nessuno? Ah devo tornare indietro mi sa Che c'è scritto C-S-P-R-B Cosa c'è la in fondo? Oh my god Minchia Minchia Non fanno scherzi eh Pupo Dammi qualche consiglio Io non so neanche dove devo andare oltretutto Dove sono nella minimappa? Ma qua non c'è niente alla fine Mento cacchio devo andare Ma qua non c'è Ma non c'è Ma non c'è Ma non c'è Sì, guarda i come... WTF?! Ah, la scuola... O' da qua? Sta scritto a motivo ceno Ma ci deve Qua c'è qualcosa che Ci deve essere qui qualcosa che devo fare Allora Cacchio devo fare? Suggerimenti Vedi l'eminescenza, torno al titolo Si mette bene Pupo Pupo, che devo fare? Ok, vabbè, comunque che qualcuno c'è qui non ci piove What the fuck è? No, ti sembra che mi cago di te io Minchia Mi deve far fare Me la deve far sotto, vero? E qua c'è una Ah, qua c'è una porta Non l'avevo vista Ah, yeah Non ci siamo persi, allora E sta cosa non mi fa pa- C'è, mo' vedi che penna sedia io non posso passare Ah Adam, credo di aver visto quello di cui parlavi l'altro giorno Non so che diavolo sia Ma non è una persona Mi stavo guardando Ma è sferito non appena ho cercato di eliminarlo Blablabla Qui c'è qualcosa che non torna Non c'è un esperimento Ballavari Eh, che schifo Ehi Non mi piace sta storia Bu Vicolo cieco mi mette paura Minchia 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 Aha Ok, non c'ho voglia di leggere Qui c'è un'altra Illumina No, no Che ti girano L'illumina L'ha messo Ce ne sono in casa Che c'è un'altra Che che ho Che c'è un'altra Ma che è? Oh fuck, mi ha preso un colpo. Yeah, guarda che ti ho portato, il pupo! Salvataggio del contenuto, questo significa che mo' so' cassi amari. Madonna, non è che me devo leggere tutta sta roba io, se ve la volete leggere voi raga, mettete in pausa e ve la leggete perché se no, se no qua faccio un gameplay di lettura. Cos'è sta roba? Un'altra? Come ho già detto, serveva di leggerla, di leggervi le lettere, mettete in pausa, ve le leggete con calma. VIVA FANCULA! Oh! Sola da storia. Che chi è? Oh! Oh my god! Oh my god! Ma che mai god! Oh oh, what the fuck! What the fuck! Datemi una K47, porca miseria! Cosa, sta tizia mi va lasciando lettere in giro? A non finire? Cosa, cosa! Rasprew the two opponents! La scoda, cosa... E quindi da quelli che sceglieranno la soluzione di soluzione. Cosa ti ha sbagliato, Sera? Potremmo la verità, davvero pura, non sempre semplice. Puoi arrampicarti solo con gli oggetti. Fuck. Ah, ok, ho capito. Ok. Sbrighati a salire che già mi sto cagando sotto. Arrampicati, brava signorina. Un altro po' e diventi come Lara Croft, veramente. Già. Ma che bella idea andare di qua che non c'è niente. Ah, ok. Ok. C'è una cassa. Ah, ho capito. Dai, bella. Arrampicate. Arrampicate. Brava. Arrampicati. Brava. Arrampicati. Sì. Brava. Ok, mo'. Speriamo di non cadere. Ci siamo. Arrampicati. Bella. Brava. Ok. Siamo quindi tornati indietro praticamente. Cucu. Oh, yes. Si è aperta la porta. Che bello. Finalmente mi sento al sicuro dietro una porta di ferro, eh. E che ho detto io? Salvataggio del contenuto. Un'altra lettera, tanto per cambiare. Più o meno. Raga. Ok, dai, dai, dai che ce la famo. Eh, madonna, lettere. Ah, ok, un'altra immagine. Ci siamo. Eh, brava. L'hai capito ora? Buongiorno. Sa perché tutte queste porte mi fan pigliare di nervosismo. Eh. I can't take it. Mi ricorda qualcosa con questa storia? What the hell? Oh, troppa porta che sono per il mio gusto. Oh, troppa porta che sono per il mio gusto. Non mi piace. Sto rumore non mi piace. C'è una sedia. Ora me la piglio e me ne vado. Mattafa. Oh, ci sono troppe porte per il mio gusto. Ok, cos'era quel casino? Perché me ne vado di qua. Wee, what the hell? Eh, wow, wow, ah, ah. Già. Mi serve, ho capito, mi serve l'orso gli occhi. Non è vero. Sì. Sì. Non so che c'è qualcuno. Pezzi di merda. VIII, vossa via! Esce! Ah! Ah! Avancolo! Scappo! Scappo! No! Dove è che la mamma? No! Wow! Quanto è buio! Oh! Quanto è buio! Oh! Quanto è buio! WTF Ok! Tutto a posto! Non è successo niente! Praticamente mi trovo in un posto che non si capisce niente! ... 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 C'è nessuno che piscia? Sì Occupato? Oh Hola Hola Ce ne sono? Guittà Oh, sì, stiga, aspetta E l'orso Yogi dov'è? Aspetta, aspetta, qualcosa non mi torna Minchia, mi sto cagando sotto Che c'è qualcuno che mi viene dietro? Non lo so e non mi interessa saperlo Fatto sta che qualcosa non mi quadra Ah, ecco qua What the fuck? What the fuck No, ma lo stu cazzo, andiamo Eeeh, puttana da miseria Corri Corri Si salve che può E chi non si può salvare Vado a fa' il culo Oh, cazzo Corri, 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 corri What the fuck What the fuck? Minchia, diciamo che mi sono leggermente perso Mi sono leggermente proprio perduto Ma sperduto nel nulla Ah, fuck E un momento Ci sono qui delle impronte che vanno Non si sa dove Oh, shit No, qua è dove c'era quella specie di scimmia disumana No, non, 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 non Mi manca una di reminescenza E dove cavolo è Oh merda What the fuck Ok ragazzi Diciamo che ci siamo leggermente Leggermente proprio persi Mi manca una di queste reminescenze Che sinceramente Non ho la più pallida idea di dove possa essere Forse di qua non ci sono ancora andato What the fuck Ecco No Ok Ho trovato il sigillo Ma l'ho preso O non l'ho preso scusa Aspetta Il sigillo è qui ma Cosa dove Non vedo niente Oh cazzo Mi sto cagando sotto leggermente I need the key Is there anybody in there? No stai zitta Non ballare What the fuck Dove cavolo devo andare Dove è quella cavolo di stanza Raga Non la sto trovando più Aspetta Forse è di qua Spero che non incontro nessuno Ah eccolo qua Dai eh What the fuck Ok Oh bella Holy shit Eccoci ci siamo Ecco qua il sigillo Oh bella Allora ragazzi E' apparso salvataggio del contenuto Ne approfitto quindi per Andare a concludere questo gameplay Dato che E' durato Il tempo sufficiente Diciamo Quindi raga Spero che vi sia piaciuto Ehm Per ora proprio Paura pura Paura pura Non me ne ha messo in modo Ecessivo Speriamo Che mi faccia piacere Qualche bel colpo Perché ogni tanto Fa bene Spaventarsi un po' Soprattutto se avessi Il singhiozzo Ma non ce l'ho Quindi niente Va bene Quindi ragazzi Vi saluto Direi che Ci becchiamo presto In altri gameplay Qui O altri ovviamente Quindi vi saluto Ok Ciao alla prossima raga Chiudo ora eh Ciao a tutti